Per alleviare la disoccupazione il governo degli Stati Uniti ha creato una specie di milizia, composta di uomini adulti e di ragazzi per lavori stradali, forestali ed altre opere pubbliche, e li ha scaglionati in vari punti della Confederazione. Eccone un plotone nel Gran Cagnon del Colorado, intento alla costruzione di sentieri per rendere il selvaggio e pittoresco luogo più accessibile. La paga è modesta, ma i volenterosi sono ben nutriti ed equipaggiati. La paga è modesta, ma i volenterosi sono ben nutriti edifici. La paga è modesta, ma i volenterosi sono ben nutriti edifici.